La trafila da seguire non è poi così complicata. All'ingresso del corridoio il dipendente che deve sottoporsi alla vaccinazione stacca il numerino saltacode e si mette in fila. Una volta arrivato nel punto di accoglienza viene chiamato a leggere il modulo del consenso informativo. Qui sono elencate anche le indicazioni e controindicazioni alla vaccinazione. Dal momento che il dipendente deciderà di firmare l'accettazione passerà al colloquio con i medici che avranno la responsabilità di valutare l'opportunità della vaccinazione. I vaccini vengono ritirati ogni mattina al magazzino Asur di Fossombrone da un addetto dell'ospedale che si presenta con un furgoncino per il ritiro il quale mantiene la temperatura a meno 80 gradi. Una volta arrivate in ospedale le confezioni protette da una scorta di vigilantes armati vengono controllate rispetto al corretto ciclo del freddo, stoccate in frigorifero e sorvegliate 24 ore su 24 fino al momento della somministrazione. Una volta aperto il farmaco viene portato a temperatura ambiente e diluito con una soluzione fisiologica per essere poi utilizzato nelle sei ore successive. Da ogni fiala vengono estratte sei dosi. Con Mauro Mancini, direttore della farmacia ospedaliera, abbiamo potuto vedere nel dettaglio tutte le fasi della procedura. Qui ogni mattina arrivano i vaccini che sono debitamente tenuti in custodia. Adesso andiamo nella parte di preparazione. La temperatura di controllo dei vaccini è strettamente monitorata da un datalogger che inseriamo nel contenitore che viaggia in un furgone frigo. Quindi se ha rispettato la catena del freddo stringente, 2-8 gradi, è pronto per la lavorazione. Qui avviene l'anamnesi dei vaccinati. Il medico verifica che la persona è pronta per essere vaccinata, quindi facendo un'anamnesi del suo pregresso, se ha allergie, tutto quello che può essere utile in questo senso. C'è un consenso informato da firmare. La parte burocratica viene fatta qui. Una volta terminata accede direttamente all'ambulatorio di vaccinazione. Qui siamo nell'ambulatorio di vaccinazione. Qui le fiale che sono state appena portate dalla preparazione vengono preparate e inserito l'ago e pronte per essere somministrate. È stata vaccinata, attende 15-20 minuti per verificare che la vaccinazione sia andata a posto e quindi non abbia nessun effetto collaterale. Dopo 20 minuti la persona viene mandata a casa o al lavoro, dipende da quello che deve fare. Il vaccinato, in tempo reale, i suoi dati vengono trasmessi al Ministero che gli richiede l'anagrafe vaccinale con tutte le specifiche, dove, quando, come, lotto del vaccino, anche il luogo dove viene iniettato. Quindi deltoide, del braccio destro e del braccio sinistro. Oltre alla totale sicurezza e anche, dal punto di vista sterile, vengono mantenute tutte le procedure di norme di buona preparazione sterili che dice la farmacopoeia ufficiale. E questa è una cosa importantissima ed è uno standard qualitativo che Marche Nord puntualizza e noi puntualizziamo ogni giorno, anche nella preparazione dei chemioterapici.